Capitolo 21 La sera della partenza di Steven scesi in piscina per una delle mie nuotate notturne e ci trovai Conrad, Jeremiah e un vicino di casa, Clay Bertolet, distesi sui lettini a bere birra. Clay viveva nella nostra strada e veniva a Cousins Beach più o meno da quando ci venivamo noi. Aveva un anno più di Conrad. A nessuno era mai stato particolarmente simpatico. Era una persona con cui al massimo si poteva andare a fare un giro. Mi irrigidii subito e mi strinsi l'asciugamano al petto. Mi chiesi se non fosse stato meglio tornare indietro. Clay mi aveva sempre reso nervosa. Non era affatto necessario che nuotassi quella sera. Avrei potuto aspettare quella dopo. Poi però cambiai idea. In fondo avevo diritto quanto loro a stare là fuori. Anzi, forse ne avevo ancora di più. Li raggiunsi fingendomi sicura di me. Ciao ragazzi, dissi. Non mi tolsi l'asciugamano. Era strano trovarsi là con indosso un bichini e un asciugamano mentre loro erano completamente vestiti. Clay mi guardò con gli occhi socchiusi. Ciao belli. È da tanto che non ci vediamo. Picchiettò sul lettino con il palmo della mano. Siediti. Odiavo quando le persone mi dicevano è da tanto che non ci vediamo. Era un modo così sciocco di salutare. Mi sedetti lo stesso. Lui si sporse verso di me e mi abbracciò. Sapeva di birra e profumo. Allora come va? Mi chiese. Prima che potessi rispondere, Conrad disse. Sta bene e adesso è arrivato il momento di andare a letto. Buonanotte belli. Cercai di non sembrare una bambina di cinque anni quando risposi. Non mi va di andare a letto, voglio nuotare. Sarà meglio che invece torni su, insistette Jeremiah mettendo giù la sua birra. Tua madre ti ucciderà se si accorge che hai bevuto. Ehi, ma che dici? Guarda che io non ho intenzione di bere. Clay mi offrì la sua corona. Tieni, mi disse facendo l'occhiolino. Sembrava ubriaco. Esitai e Conrad gli ordinò con tono brusco e irritato. Non dargli quella roba. Che diamine è una bambina? Gli lanciai un'occhiataccia. Smettila di comportarti come Steven. Per un secondo o due, presi in considerazione di accettare la birra di Clay, non sarebbe stata la prima e d'altro canto lo avrei fatto solo per infastidire Conrad e io non avevo intenzione di farmi condizionare da lui. No, grazie, gli risposi. Conrad annui in maniera impercettibile. Ora falla brava, torna a letto. Mi senti come quando lui, Steven e Jeremiah mi escludevano dalle loro cose di proposito. Arrossì e replicai, guarda che ho solo due anni meno di te. Due e un quarto. Mi corresse in maniera automatica. Clay rise e io sentì il suo alito che sapeva di birra. Cazzo, anche la mia ragazza ha 15 anni. Poi mi guardò. La mia ex ragazza. Accennai un sorriso. Dentro di me volevo fuggire da lui e dal suo alito, ma il modo in cui Conrad ci osservava, beh, mi piaceva. Provai soddisfazione a sottrargli l'amico, anche se per soli cinque minuti. Non è illegale fidanzarsi con una minorenne? Chiesi a Clay. Risi ancora. Sei carina, Belli. Mi sentì arrossire. Beh, come mai vi siete lasciati? Gli chiesi, come se non lo sapessi. Si erano lasciati perché Clay era un cretino. Ecco perché. Clay era sempre stato un cretino. Provava a far mangiare gli Alka-Seltzer ai gabbiani perché aveva sentito dire che gli facevano scoppiare lo stomaco. Clay si grattò la nuca. Non lo so, lei doveva partire per un corso di equitazione o cose del genere. I rapporti a distanza sono delle cagate. Ma sareste stati lontani solo per i mesi estivi? Protesta io. È da scemi lasciarsi per via dell'estate. Io ero stata cotta di Conrad per interi anni scolastici. Sarei andata avanti per mesi, anni, senza stancarmi. Del resto, se fossimo stati fidanzati, non lo avrei mai lasciato durante l'estate o durante l'anno scolastico. Clay mi guardò con gli occhi socchiusi e assonnati. Sei fidanzata? Sì, risposi, e nel farlo guardai Conrad. Fu più forte di me. Vedi? Intendevo dirgli. Non sono più la stupida dodicenne con una cotta. Sono una persona vera. Con un ragazzo vero. Cosa importava che non fosse la verità? Conrad sbatte gli occhi, ma il suo volto rimase espressivo. Jeremiah invece parve sorpreso. Belli, hai un fidanzato. Agrottò le sopracciglia. Non ce ne hai mai parlato? Non è una cosa seria. Mi misi ad armeggiare con un filo del cuscino. Mi stavo già pentendo di essermelo inventato. In realtà il nostro è un rapporto molto occasionale. Vedi? E allora che senso ha proseguire una relazione durante l'estate? E se tu conoscessi altre persone? Clay mi fece per scherzo l'occhiolino. Come me adesso, per esempio? Noi due ci conoscevamo già, Clay. Ci conosciamo da dieci anni. Non che Clay mi avesse mai riservato molta attenzione. Mi diede un colpetto con il ginocchio. Piacere di conoscerti. Sono Clay. Io risi, anche se non ci trovavo nulla di divertente. Mi sembrava semplicemente la cosa giusta da fare. Ciao, io sono Belli. Allora, Belli, ti va di venire al mio falò domani sera? Mi chiese. Certo, risposi cercando di non apparire troppo entusiasta. Conrad, Stephen e Jeremiah andavano ogni anno al grande falò del 4 luglio. Clay l'organizzava a casa sua perché c'erano una montagna di fuochi su quel lato della spiaggia. Sua madre faceva sempre trovare dei dolcetti. Una volta chiesi a Jeremiah di portarmene uno e lui lo fece. Era gommoso e bruciacchiato, ma lo mangiai lo stesso e gliene fui comunque grata. Fu come partecipare alla festa. I ragazzi non mi lasciavano mai andare con loro e io non provai mai a convincerli. Osservavo lo spettacolo dal portico sul retro della casa, in pigiama, con Susanna e mia madre. Loro bevevano champagne, io un'aranciata. Pensavo che tu fossi venuta qua per nuotare, disse all'improvviso Conrad. Che diamine, Conrad, dalle tregua! Ribatteggere Maya. Se ne ha voglia, nuoterà. Ci scambiamo un'occhiata di quelle che significavano come mai Conrad si comporta da genitore. Conrad scosse la cenere della sigaretta nella sua lattina mezza vuota. Fa come vuoi, mi disse. Certo, risposi, facendogli la linguaccia e alzandomi. Mi tolsi l'asciugamano e mi tuffai in acqua con un tuffo ad angelo perfetto. Rimasi sott'acqua per un minuto. Poi iniziai a nuotare a dorso per origliare la loro conversazione. Udì Clay mormorare. Accidenti, Cousin's Speech sta diventando noiosa. Non vedo l'ora di andarmene. Sì, anch'io, aggiunse Conrad. Dunque Conrad era pronto ad andarsene. Anche se in parte lo sapevo già, ci rimasi male. Avrei voluto dirgli, allora vattene, che aspetti? Se non vuoi stare qua non starci, va via. Ma non volevo lasciarmi infastidire da Conrad. Non ora che le cose stavano finalmente migliorando. Clay Bertolet mi aveva invitato al suo valò del 4 luglio. Uscivo con anni grandi. La vita era bella. O quantomeno stava per diventarlo. Pensai tutto il giorno a cosa indossare. Dato che non ci ero mai stata, non avevo idea di cosa mettermi. Probabilmente avrebbe fatto un po' freddo, ma non avevo alcuna intenzione di infagottarmi per il falò. Non al primo a cui partecipavo. Non volevo neppure che Conrad e Geremaya mi dessero del filo da torcere se mi fossi messa troppo in gingheri. Decisi che con un paio di pantaloncini, una canottiera e le infradito sarei andata sul sicuro. Quando arrivammo mi accorsi che avevo fatto la scelta sbagliata. Le altre ragazze indossavano prendisole, minigonne e stivali. Se a Cousins avessi avuto un'amica, forse lo avrei saputo. Non mi avevano detto che le ragazze si sarebbero messe in gingheri, sibilai a Geremaya. Stai bene anche tu, non essere sciocca, mi rispose andando dritto al barilotto di birra. C'era la birra, non vedevo dolcetti da nessuna parte. Era la prima volta che vedevo un fusto di birra nella vita reale. Li avevo sempre visti nei film. Feci perseguire Geremaya, ma Conrad mi afferrò per un braccio. Non bere stasera, mi intimò. Mia madre mi ucciderà se ti lascio bere. Mi liberai dalla sua presa. Tu non hai il diritto di decidere per me. Ti prego. Vedremo, risposi dirigendomi verso il fuoco. Mi aspettavo di trovare i dolcetti. In teoria andare al falò era un'idea carina, ma esserci davvero era tutt'altra cosa. Geremaya stava chiacchierando con una ragazza con un top rosso, bianco e blu e una gonna di jeans. E Conrad stava parlando con Clay e altri tizi che non conoscevo. Considerato il modo in cui Clay aveva flirtato con me la sera prima, pensavo che sarebbe venuto perlomeno a salutarmi. E invece no, teneva la mano sulla schiena di una ragazza. Restai vicino al fuoco da sola, fingendo di scaldarmi le mani anche se non erano fredde. Fu allora che lo vidi. Anche lui era da solo a bere una bottiglia d'acqua. Neppure lui pareva conoscere qualcuno, perché se ne stava per i fatti suoi. Sembrava della mia età. In lui però c'era un qualcosa di rassicurante che lo faceva apparire più piccolo di me, anche se non lo era. Mi ci volle qualche occhiata per capire di cosa si trattava. E alla fine ci riuscì. Erano le sue ciglia. Erano così lunghe che gli arrivavano agli zigomi. Beh, bisogna ammettere che aveva gli zigomi alti, ma erano comunque delle ciglia singolari. Aveva anche la mandibola appena sporgente e la pelle chiara e liscia, del colore delle scaglie di cocco tostate, quelle che si mettono sul gelato. Mi toccai la guancia e provai sollievo accorgendomi che il sole aveva seccato il brufolo di due giorni prima. Lui aveva la pelle perfetta. Tutto in lui mi sembrava perfetto. Era alto più di Steven e Jeremiah e forse perfino di Conrad. Dall'aspetto pareva mezzo giapponese o forse coreano. Era così bello che mi venne voglia di fargli un ritratto, anche se non sapevo disegnare. Si accorse che lo guardavo e io distorsi lo sguardo. Poi tornai a osservarlo e lui mi scoprì di nuovo. Alzò una mano e accennò un saluto. Sentii le guance andare in fiamme. Non potei fare altro che dire ciao. Lo raggiunsi, gli porsi la mano e subito me ne pentii. Darsi la mano era antiquato. Lui me la strinse. In un primo momento non disse niente. Si limitò a fissarmi come se cercasse di capire qualcosa. Ho l'impressione di conoscerti, mi disse alla fine. Trattenni un sorriso. Non era così che gli uomini dicevano alle donne quando le abbordavano nei locali. Mi domandai se mi avesse vista in spiaggia con il mio nuovo bikini a pua. Avevo avuto il coraggio di mettermelo solo una volta, ma forse era stato proprio quello a farmi guadagnare l'attenzione di questo tizio. Magari mi hai vista in spiaggia. Lui scosse il capo. No, non direi. Allora non era stato merito del bikini. Fece un altro tentativo. Forse in gelateria? Neppure, rispose. Poi fu come se gli si fosse accesa una lampadina, per chi sorrise di colpo. Fai latino? Ma che diamine? Eh, sì. Sei mai andata alle Olimpiadi di latino di Washington? Sì, risposi. Ma chi era questo ragazzo? Lui a noi, soddisfatto. Anch'io, in terza media, giusto? Sì. In terza media avevo l'apparecchio e portavo ancora gli occhiali. Detestai che mi avesse conosciuta in quel periodo. Perché non mi aveva vista con il bikini a pua? Ecco perché ti conosco. Non riuscivo a darmi una risposta. Sorrise. Io mi chiamo Cam, ma il mio nome latino è Sextus. Salve. D'un tratto mi salì dal petto una risata, gorgogliente come bollicine. Era divertente. Salve. Io sono Flavia. Voglio dire belli. Cioè, in realtà mi chiamo Isabel, ma mi chiamano tutti belli. Perché? Mi guardò come se si chiedesse davvero perché. Quando ero piccola, mio papà mi soprannominò così. Pensava che Isabel fosse un nome troppo lungo. Gli spiegai. E ora continuano tutti a chiamarmi così. È sciocco. Cam ignorò l'ultima parte e proseguì. Perché non izzi allora? O bell? Non lo so. In parte perché le gelli belli sono le mie caramelle preferite. Io e mio padre ci eravamo inventati un gioco. Lui mi chiedeva di che umore ero e io gli rispondevo con i gusti delle gelli belli. Per esempio, se ero di buon umore, gli rispondevo prugna. La mia voce si smorzò. Quando ero nervosa balbettavo e in quel momento ero senza dubbio nervosa. Avevo sempre odiato il nome Belli. In parte perché non era il mio vero nome. Era un soprannome infantile. Non era per nulla un nome vero. Isabel, al contrario, era il nome di una ragazza esotica che visitava luoghi come il Marocco o il Mozambico, che aveva tutto l'anno lo smalto rosso. Belli era un nome che evocava bambine grassocce o uomini in canottiera. A ogni modo, io odio il nome Itzy, ma mi piacerebbe che la gente mi chiamasse Bell. È più carino. Lui annui. Infatti significa bella. Lo so, risposi. Faccio francese. Cam disse qualcosa in francese talmente in fretta che non capì. Cosa? Gli chiesi. Mi sentì stupida. È imbarazzante parlare francese in un luogo diverso dalla classe. Voglio dire, coniugare i verbi è una cosa, ma parlarlo sul serio a una persona francese reale è completamente diverso. Mia nonna è francese, mi disse. Lo parlo da quando sono piccolo. Oh. Mi sentì stupida a essermi vantata di seguire un corso di francese. Sai, la V andrebbe pronunciata U. Che? Mi riferisco a Flavia. Andrebbe pronunciato Flauia. Ma certo, lo so, risposi bruscamente. Ho ricevuto il secondo premio in orazione. Flauia, però, è ridicolo. Io ho preso il premio, replicò cercando di non apparire compiaciuto. D'improvviso mi ricordai di un ragazzo con la camicia nera e una cravatta a righe che si guadagnò il primo posto sbaragliando tutti quanti con la sua orazione di catullo. Era lui. Perché hai scelto quel nome allora se ti sembrava ridicolo? Sospirai. Perché Cornelia era già stato preso. Volevano chiamarsi tutte quante Cornelia. Le mie amiche invece volevano chiamarsi tutte Poppea. Perché? Gli chiesi. Me ne pentì subito. Lasciamo perdere. Cam rise. L'umorismo di terza media non è molto raffinato. Risi anch'io. Poi dissi. Abiti qua? Siamo in affitto in una casa due isolati più avanti. Diciamo che è stata mia madre a costringermi a venire alla festa. Rispose Cam con aria impacciata. Oh. Avrei voluto dire qualcosa di diverso da oh ma non mi veniva in mente altro. E tu perché sei qua Isabel? Rimasi sorpresa nel sentirgli pronunciare il mio vero nome. Gli uscì di bocca con naturalezza. ebbi l'impressione di essere al mio primo giorno di scuola. La cosa però mi piacque. Non lo so risposi. Suppongo perché Clay mi ha invitata. Tutto ciò che mi usciva di bocca suonava generico. Per qualche ragione volevo fare colpo su quel ragazzo. Volevo piacergli. Sentivo che mi giudicava. Giudicava le sciocchezze che dicevo. Anch'io sono intelligente avrei voluto dirgli. Mi convinsi che non aveva importanza che mi credesse intelligente. E invece ce l'aveva. Mi sa che tra poco me ne vado. Concluse finendo l'acqua. Poi mi chiese senza guardarmi. Ti serve un passaggio? No. Risposi. Cercai di nascondere la mia delusione per il fatto che se ne stesse già andando. Sono venuta con quei ragazzi là. Indicai Conrad e Jeremia. Lui annui. Lo avevo capito dal modo in cui tuo fratello ci osservava. Rimasi senza parole. Mio fratello? Chi? Lui? Indicai Conrad. Non ci stava osservando. Guardava una bionda con un cappellino dei Red Sox che ricambiava il suo sguardo. Conrad rideva e lui non lo faceva mai. Sì. Non è mio fratello. Cerca di comportarsi da fratello maggiore ma non lo è. Risposi. È così paternalistico. Ma perché vai già via? Ti perderai i fuochi d'artificio. Cam si schiarì la gola quasi fosse imbarazzato. In realtà avevo intenzione di andare a casa a studiare. Latino? Mi tappai la bocca per nascondere una risata. No, studio le balene. Voglio fare un tirocinio su una di quelle navi che avvistano le balene e il prossimo mese dovrò dare un esame sull'argomento. Mi rispose. Oh figo! Esclamai. Non volevo che se ne andasse. Era carino. Stare accanto a lui mi faceva sentire Pollicina, piccola e preziosa. Era altissimo. Se se ne fosse andato sarei rimasta sola. Sai cosa? Mi sa che accetterò il tuo passaggio. Aspetta qua, torno subito. Raggiunsi in fretta Conrad, camminando così alla svelta che sollevai la sabbia. Ehi, mi faccio dare un passaggio! Dissi senza fiato. La bionda con il cappellino dei Red Sox mi squadrò. Ciao, mi disse. Conrad mi chiese. Da chi? Indicai Cam. Da lui. Non puoi andare in macchina con uno sconosciuto. E invece lo conosco bene. È Sextus. Conrad socchiuse gli occhi. Sex che? Lascia perdere. Si chiama Cam, studia le balene e non sei tu a decidere con chi torno a casa. Volevo solo fartelo sapere, per cortesia. Non ti stavo chiedendo il permesso. Feci per andarmene, ma lui mi afferrò per un braccio. Non mi interessa cosa studia, non ci andrai. Disse con aria indifferente, ma stringendomi forte. Se vuoi tornare a casa, ti accompagno io. Feci un respiro profondo. Dovevo mantenere la calma. Non gli avrei permesso di spingermi a fare la bambina, non di fronte a quelle persone. No, grazie, risposi cercando di nuovo di allontanarmi. Lui però non mi lasciava andare. Ma non avevi detto che eri fidanzata? Dal suo tono beffardo capii che la sera prima si era accorto che avevo mentito. Mi venne una voglia matta di tirargli una manciata di sabbia in faccia. Cercai di liberarmi dalla sua stretta. Lasciami andare, mi fai male! Mi lasciò subito, rosso in volto. Non mi faceva male sul serio, ma volevo che si sentisse imbarazzato quanto me. Dissi a voce alta. Preferirei farmi dare uno strappo da uno sconosciuto piuttosto che da uno che beve. Mi sono fatto solo una birra, rispose bruscamente. Peso 80 chili. Aspetta mezz'ora e ti do un passaggio io. Smettila di fare la peste. Sentii le lacrime iniziare a infiammarmi le palpebre. Mi voltai a controllare se Cam ci stava osservando. Sì. Sei un coglione, esclamai. Conrad mi guardò dritto negli occhi e rispose, e tu sei una mocciosa. Mentre mi allontanavo, udì la ragazza a chiedere, è la tua fidanzata? Io mi girai di scatto e rispondemmo entrambi all'unisono, no. Confusa la ragazza aggiunse, allora è la tua sorellina? Come se io non fossi presente. Si era data un sacco di profumo che inondava l'aria attorno a noi, riempiendoci le narici. No, non sono la sua sorellina. Odiavo che quella ragazza fosse testimone di quella scena. Era umiliante. E poi lei era bella, proprio come Taylor. E questo non faceva che peggiorare la situazione. Conrad disse, sua mamma è la migliore amica della mia. Dunque ero solo questo per lui, la figlia dell'amica di sua madre. Feci un respiro profondo, e senza neppure pensarci, dissi, io conosco Conrad da una vita, dunque lascia che ti dica che hai preso un granchio. Conrad non amerà mai nessuno quanto se stesso. Non so se ho reso l'idea. Sollevai una mano per salutare. Taci, belli, mi intimò Conrad. Le orecchie gli stavano diventando rosse. Era un colpo basso, ma non mi interessava, se lo meritava. La ragazza con il cappellino aggrottò le sopracciglia. Di che sta parlando, Conrad? Le risposi d'impulso. Oh, scusami, non sai cosa significa il modo di dire prendere un granchio? Il suo bel volto si stravolse. Sta zitta, racchia! Sibilò. Mi feci piccola dalla paura. Desiderai rimangiarmi ciò che avevo detto. Non avevo mai fatto a botte con una ragazza, e se era per quello non lo avevo mai fatto con nessuno. Per fortuna, a quel punto intervenne Conrad, indicando il falò. Belli, torna là e aspettami, mi disse duramente. Fu allora che arrivò Jeremiah. Ehi, che succede? Mi domandò, con il suo sorriso tranquillo e ingenuo. Tuo fratello è un cretino, risposi. Ecco cosa succede. Jeremiah mi poggiò un braccio sulla spalla. Puzzava di birra. Cercate di trattarvi bene, capito? Io mi tolsi il braccio di dosso con un'alzata di spalle e replicai. Guarda che io lo tratto bene. È a lui che devi dire di fare lo stesso. Aspettate un attimo. Anche voi due siete fratello e sorella? Chiese la ragazza. Conrad ripetè. Non pensare di andartene con quel tizio. Conrad, rilassati, rispose Jeremiah. Belli non sta andando via. Vero, Belli? Mi guardò e io increspai le labbra e annui. Poi lanciai a Conrad un'occhiata irritatissima e feci altrettanto con la ragazza, quando fui abbastanza lontana da non rischiare che mi afferrasse per i capelli. Tornai al falò, cercando di tenere le spalle dritte, anche se in realtà mi sentivo una bambina che era stata sgridata alla sua festa di compleanno. E non era giusto che mi trattassero come una bambina, ora che non lo ero più. Io e quella ragazza avevamo di sicuro la stessa età. Cam mi chiese. Che diamine è successo? Trattenendo le lacrime, risposi. Niente, andiamo. Lui esitò, gettando un'occhiata a Conrad. Non credo che sia una buona idea, Flavia. Rimarrò qua con te ancora per un po'. Le balene possono aspettare. Mi venne voglia di baciarlo. Volevo dimenticarmi di Conrad e vivere quel momento, come in una bolla. Sopra di noi scoppiò il primo fuoco d'artificio. Sembrò una pentola a pressione che fischiava forte e con fierezza. Era dorato e si frammentò in milioni di puntini dorati simili a coriandoli sopra le nostre teste. Restammo seduti vicino al fuoco. Lui mi raccontò delle balene e io gli raccontai sciocchezze, come il fatto che fossi la segretaria dell'associazione di francese o che il mio piatto preferito fosse la porchetta. Lui mi rispose che era vegetariano. Ristammo a parlare per un'ora. Conrad ci osservò per tutto il tempo e fui tentata a dimostrargli il dito medio. Odiavo quando era lui a vincere. Quando iniziò a fare freddo mi sfregai le braccia e Cam si tolse la felpa per darla a me. Fu un sogno che diventava realtà. Avere freddo e trovare un ragazzo che ti presta la sua felpa invece di gungolare perché lui se l'è portata e tu no. Sotto aveva una maglietta con la scritta straight edge e il disegno di una lametta da barba. Che significa? Gli chiesi sollevando la cerniera della felpa. Era calda e aveva un odore maschile ma in senso buono. Significa che non bevo e non mi drogo. Un tempo ero un punk hardcore per cui non prendevo medicinali da banco e non bevevo caffeina ma ora ho smesso. Perché? Vuoi sapere perché ero hardcore o perché ho smesso? Tutte due le cose. Sono contrario all'idea di avvelenare il corpo con roba non naturale, rispose. Ho smesso perché stavo facendo impazzire mia madre e poi mi mancava la dottor Pepper. Anche a me piaceva quella bibita. Ero felice di non aver bevuto alcolici. Non volevo che Cam pensasse male di me. Volevo che mi considerasse una tipa giusta, di quelle che se ne fregano di cosa pensa la gente, come faceva lui. Volevo essere sua amica. Volevo anche baciarlo. Cam se ne andò quando me ne andai io. Si alzò non appena vide Geremaya venire a prendermi. Ciao Flavia, mi disse. Io feci per togliermi la felpa ma lui mi disse. Non importa, me la darai un'altra volta. D'accordo, ti lascio il mio numero di telefono. Risposi, allungando la mano per prendere il suo cellulare. Non avevo mai dato il mio numero a un ragazzo. Mentre digitavo le cifre, mi sentii molto orgogliosa di avergli l'offerto. Mentre si allontanava, rimise il telefono in tasca e aggiunse. Avrei comunque trovato il modo di riprendermela anche senza il tuo numero. Sono intelligente, ricordi? Ho preso il primo premio in orazione. Cercai di non ridere mentre se ne andava. Non sei così intelligente, gridai. Sembrava destino che ci fossimo incontrati. Era la cosa più romantica che mi fosse mai capitata. Osservai Conrad salutare la ragazza con il cappellino. Lei lo abbracciò e lui ricambiò, ma in maniera poco convinta. Ero felice di avergli in parte rovinato la serata. Di ritorno all'auto mi fermò una ragazza. Aveva i capelli castano chiaro raccolti in due trecce e una maglietta rosa scollata. Ti piace Cam? Mi chiese con aria distratta. Mi domandai come lo conoscesse. Credevo che fosse uno zero quanto me. Lo conosco a malapena, le risposi, e il suo volto si rilassò. Era sollevata. Nei suoi occhi riconobbi uno sguardo sognante e speranzoso. Anch'io un tempo dovevo apparire così quando parlavo di Conrad, quando cercavo dei modi per inserire il suo nome in una conversazione. La cosa mi rese triste per lei e per me. Ho visto come si è rivolta a te, Nicole. Proseguì in maniera inaspettata. Non farci caso, è una brutta persona. La ragazza con il cappellino. Sì, in effetti è proprio una brutta persona. Concordai. Poi la salutai, mentre Jeremia, Conrad e io ci incamminavamo verso la macchina. Guidò Conrad. Era del tutto sobrio e io sapevo che lo era stato per tutto il tempo. Scrutò la felpa di Cam, ma non disse nulla. Non ci scambiamo neppure una parola. Io ero seduta dietro con Jeremia, che si sforzava di fare discorsi divertenti, ma nessuno rideva. Io ero troppo presa a pensare, a ricordare tutto ciò che era accaduto quella sera. Pensai, forse è stata la sera più bella della mia vita. Nella foto di classe l'anno prima, Sean Kirkpatrick aveva scritto che avevo due occhi così chiari che lasciavano affiorare l'anima. Beh, Sean era un patito di teatro, ma questo che significava? Quel complimento mi aveva comunque fatto piacere. Taylor ridacchiò quando glielo feci leggere. Disse che solo Sean Kirkpatrick avrebbe potuto notare il colore dei miei occhi perché tutti gli altri erano presi a guardarmi il seno. In questo caso però non si trattava di Sean Kirkpatrick, si trattava di Cam, un ragazzo vero che mi aveva notata ancora prima che diventassi bella. Mi stavo lavando i denti nel bagno al piano di sopra quando Jeremia entrò richiudendo la porta alle sue spalle. Allungando la mano verso il suo spazzolino mi chiese «Che sta succedendo tra te e Conrad? Perché vi odiate così tanto?» Si sedette sul lavandino. Jeremia non sopportava che le persone litigassero. Era anche per quello che faceva sempre il pagliaccio. Si assumeva il compito di alleggerire le situazioni. Questo lo rendeva dolce ma anche un po' noioso. Con la bocca piena di dentifricio gli risposi «Forse perché Conrad è un rompiscatole megagalattico?» Ridemmo entrambi. Jeremia si schiarì la gola. «Dico sul serio, non essere troppo dura con lui. Sta passando un brutto momento». Quella era una novità. «De che parli?» Gli chiesi. Jeremia esitò. «Non aspetta a me» e dirtelo. «Dai, noi due ci raccontiamo sempre tutto, Jeremia. Niente segreti, ricordi?» Sorrise. «Sì, me lo ricordo, ma non posso raccontartelo, non è un mio segreto». Accigliandomi apri il rubinetto e dissi «Prendi sempre le sue difese». «Io non prendo le sue difese, sto solo cercando di vedere le cose dal suo punto di vista. È la stessa cosa». Allungò le mani e mi sollevò gli angoli della bocca. Era uno dei suoi trucchetti più vecchi, con cui riusciva sempre a farmi sorridere. «Niente bronci, belli ricordi?» Niente bronci era una regola che Conrad e Steven avevano stabilito qualche estate precedente. Avevo otto o nove anni. Il fatto però era che si applicava solo a me. Attaccarono perfino un cartello alla porta di camera mia. Io lo tolsi, ovviamente, e corsi a raccontarlo a Susanna e a mamma. Quella sera ricordo che ottenni una porzione doppia di dolce. Ogni volta in cui mi mostravo anche un minimo triste o infelice, uno dei ragazzi iniziava a gridare «Niente bronci, niente bronci!» D'accordo.